E il periodo difficile dovuto al contagio ha portato anche a numerose presenze in più nei comuni del Molise in questi mesi, tra i luoghi più frequentati, quello di Roccamandolfi, il comune montato dove è situato il ponte tibetano, una delle attrazioni scelte dai nuovi visitatori turistici. Ma andiamo a vedere. Senza ombra di dubbio il Molise nell'epoca del Covid ha registrato un numero di presenze senza precedenti nel passato. È evidente come la natura aperta e la possibilità di vivere qualche giorno in uno dei non popolosi 136 comuni molisani hanno fatto aumentare il numero di visitatori. Tra i luoghi scelti, quelli relativi al comune montano di Roccamandolfi, dove è situata una delle attrazioni tra le più richieste, il ponte tibetano. Delle molte presenze ne parliamo con il sindaco Giacomo Lombardi. È stata una stagione molto positiva dal punto di vista dei numeri, in particolar modo per le attrazioni che abbiamo. Mi riferisco al ponte tibetano che è qui alle nostre spalle, al castello medievale, allo splendido borgo. Parliamo di numeri importanti per tutti i mesi di luglio, di agosto, ma anche inizio settembre. Nei fini di settimana abbiamo avuto un punto importante di oltre mille persone, sia per quanto riguarda il sabato, sia per quanto riguarda la domenica. Ora si tratta di continuare, di andare avanti, di migliorare, di fare piccoli accorgimenti, migliorare nella segnaletica sia orizzontale che verticale, nella sicurezza stradale e l'obiettivo ogni anno è crescere, migliorare e alzare l'asticella. Sicuramente il Covid in dal senso ci ha dato una spinta, ora dobbiamo essere bravi noi a fare sistema e a far sì che quest'anno non sia un anno sporadico di numeri importanti ma che diventi la normalità. Io credo che Roccamandolfi nel panorama regionale può avere uno spazio molto molto importante. Un comune, Roccamandolfi, molto attivo nel segno dell'accoglienza e che sta lanciando altre due iniziative. Uno riguarda un museo del brigandaggio che poi è un centro audiovisivo in 3D che di fatto è finito, verrà inaugurato nei prossimi mesi, sarà un unicum in Molise e racconterà le storie più importanti del brigandaggio che riguarda il nostro comune in maniera fantasiosa e soprattutto che ha come obiettivo quello di avere come interlocutori i bimbi e quindi le scolarische e quindi lo inaugureremo da qui a qualche mese. Poi c'è un progetto già finanziato e anche appaltato che riguarda un percorso di zip lane, ovvero un percorso di 380 metri circa aerei che verrà nella zona del castello del Ponte tibetano che rappresenterà una nuova grande attrazione per quanto riguarda il nostro comune. Aspettiamo gli ultimi pareri dei beni ambientali e della sovrintendenza e siamo ottimisti che già dal 2021 i turisti che ci vengono a trovare ne possano usufruire.